Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Saranno necessari ancora alcuni giorni prima di dare l'ultimo saluto a Jacopo Sciabolini, il 24enne di Foiano della Chiana, che è rimasto purtroppo ucciso in un incidente stradale. La procura di Arezzo ha disposto l'autopsia e ha conferito l'incarico all'equipe di medicina legale dell'Università di Siena. L'accertamento sarà eseguito venerdì prossimo, solo dopo ovviamente la salma sarà riconsegnata ai familiari appunto per celebrare i funerali. Precipita dal piano di un palazzo è grave un trentenne. L'episodio però è ancora tutto da chiarire. L'uomo è appunto caduto da un'altezza di circa 4 metri e ha riportato ferite gravi. È in prognosi riservata, trasportato alle scotte di Siena attraverso l'elisoccorso Pegaso, originario dell'est europeo. Il trentenne sarebbe caduto da una finestra. Sul caso indagano i carabinieri. Schianto frontale oggi alle 12.30, località Santa Lucia nel comune di Castiglion Fiorentino. Due le auto coinvolte, una utilitaria e un pick-up. Tre le persone rimaste ferite, tutti uomini che però appunto non sono per fortuna in pericolo di vita. E infine un intervento dei vigili del fuoco perché una ruspa è stata letteralmente divorata dalle fiamme. È successo alle 17.00 a Castiglion Fiorentino. I vigili del fuoco hanno spento appunto l'incendio e bonificato l'aria. Nessuno è rimasto ferito. E adesso invece parliamo di ludopatia. Un interessante progetto, una mostra interattiva ospitata dalla prefettura di Arezzo proprio per sensibilizzare soprattutto i giovanissimi appunto sul tema del gioco d'azzardo. Una simulazione vera e propria del gioco d'azzardo per quasi 1.500 studenti delle scuole superiori dell'Aretino è il progetto portato avanti dalla rete interistituzionale contro le ludopatie che vede in campo prefettura, ASL, associazioni del territorio, forze dell'ordine. Per una settimana i ragazzi sono stati ospitati nel salone d'onore della prefettura di Arezzo che si è letteralmente trasformato in una sala da gioco d'azzardo. Si è cercato attraverso questa full immersion in questa dimensione di gioco di far conoscere ai ragazzi quelle cose, quegli aspetti sui quali magari non ci si sofferma. Quindi quali sono i meccanismi su cui si basa il gioco, come viene realizzato un gioco, quali sono gli algoritmi matematici che sono alla base di un gioco e anche farli riflettere, quindi dare consapevolezza su quelli che possono essere i potenziali rischi perché fin tanto che il gioco è consapevole e rientra, come dicevo, nell'ambito dei rapporti sociali chiaramente non c'è nessun campanello d'allarme. Quando questo confine viene superato e si crea un legame tossico con il gioco piuttosto che con le altre dipendenze, è chiaro che si hanno delle alterazioni e del comportamento e della vita proprio del soggetto, in questo caso dei ragazzi, del modo di rapportarsi con gli altri e si arriva all'isolamento e insomma ha delle conseguenze veramente gravi. Un modo per sensibilizzare i giovanissimi sul tema delle ludopatie, oggi a prevalere il gioco online, nel quale è difficile stabilire se chi vi accede è maggiorenne oppure no. Si inizia infatti a giocare, secondo i dati del CERD, già alle scuole superiori. In maniera preoccupante si è spostato molto sull'online e questa parte a livello nazionale raccolta già più del 50%, dei 140 miliardi circa giocati, diventa più difficilmente recuperabile anche perché la presenza incontra persone che possono dissuadere, possono intervenire e possono rendere più difficile l'esperienza di gioco. L'online è decisamente più drammatico nelle conseguenze. L'online è più difficile capire quando si comincia a giocare. Certamente però puntate a gratte e vincere, le lotterie istantanee o ad altre forme di gioco sono anche i minori, per cui l'azzardo ci dice una ricerca di ARS toscana, dell'Agenzia regionale toscana, comincia con una raccolta elevata nei ragazzi e le ragazze a retine già con la prima superiore. Una parte importante dei ragazzi alle scuole secondarie ha con il gioco un atteggiamento confidente. Si tornerà a parlare di rifiuti il prossimo sabato 18 novembre, esattamente del piano rifiuti varato dalla regione toscana. L'appuntamento è stato organizzato dai cittadini che risiedono alle porte di Arezzo ed sarà ospitato all'oratorio San Giovanni Paolo II di San Giuliano. Un'occasione, ci dicono gli organizzatori, attraverso la quale ognuno potrà esporre varie osservazioni al piano rifiuti. Saranno anche raccolte firme per la presentazione delle osservazioni proprio verso la regione toscana. L'incontro potrà essere anche occasione di conoscenza per tutti i cittadini che risiedono ad Arezzo riguardo l'ampliamento del termo valorizzatore di San Zeno. Ognuno, dicono ancora gli organizzatori, potrà esporre le proprie considerazioni. Allora, come dicevamo, il prossimo sabato 18 novembre, a partire dal primo pomeriggio, all'oratorio San Giovanni Paolo II di San Giuliano. E adesso invece parliamo di sanità perché fervono i motori della diciottesima edizione del Forum Risk Management in Sanità. Oltre mille relatori che arrivano da tutta Italia e ospiti istituzionali di rilievo nazionale, è in pieno fermento la macchina organizzativa del diciottesimo Forum Risk Management che sarà ospitato da Arezzo Fiere e congressi dal 21 al 25 novembre che rappresenterà un vero e proprio laboratorio della sanità del futuro. Tantissimi i temi che verranno toccati nei vari tavoli di lavoro, a cominciare dalla necessità di inserire in finanziaria più soldi per la sanità pubblica. Un evento di carattere nazionale perché ci saranno tante regioni e gli esponenti appunto anche nazionali dei vari soggetti in campo. Sì, ci sarà il ministro, ci sarà il sottosegretario, ci saranno i governatori di alcune regioni, ci saranno i dirigenti di tutte le regioni e soprattutto una grande parte dei direttori generali, sanitari e amministrativi di tutte le aziende sanitarie. Perché il cuore del Forum qual è? È cercare di mettere insieme tutti gli attori, quelli che si chiamano gli stakeholder, per condividere idee, progetti e soluzioni per migliorare il nostro sistema sanitario. Il Forum si terrà nei giorni in cui in Parlamento deciderà la legge di bilancio e quindi sarà un'occasione per far sentire la voce del Forum per dire che occorrono più soldi per il sistema sanitario. E ancora, un tema di stretta attualità, la transizione tecnologica in sanità. Temi fondamentali come, uno, il fascicolo sanitario elettronico, cioè porteremo il progetto del nuovo fascicolo sanitario elettronico che consentirà al cittadino, ovunque vada in Italia e in Europa, di avere i propri dati a disposizione. Secondo, la telemedicina, per garantire al cittadino, uno, la migliore facilità di accesso possibile al servizio sanitario attraverso tutti gli strumenti della prenotazione e attraverso poi la possibilità di accedere nel territorio con la casa della comunità una volta sola per avere il suo programma di assistenza e sanità. E poi, attraverso il teleconsulto, il telemonitoraggio, del telecontrollo, garantire fino a casa del paziente che ci sia questa prossimità tra il medico, l'infermiere e il paziente, il cittadino. E questa è una cosa importantissima soprattutto per gli anziani e le persone più fragili. E poi le centrali operative territoriali. Ho parlato di prenotazione, ho parlato di servizi integrati. Le centrali operative territoriali, ancora una volta grazie alle tecnologie, saranno in grado di garantire i servizi, voglio dire, una volta che si accede al servizio sanitario, avere risposta a tutti i bisogni di cui abbiamo. Quindi il forum sarà una grande occasione anche per capire tecnologicamente come le tecnologie, quello che abbiamo chiamato la transizione digitale, può impattare su una sanità che deve rinnovarsi e deve riformarsi. Il Lions Club di Arezzo Nord-Est ed Estraclima insieme per un confronto sulle comunità energetiche rinnovabili con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. L'appuntamento è fissato per sabato 18 novembre con inizio alle 17.30. Sarà ospitato dalla Borsa Merci di Arezzo. Interverranno Marco Agnolozzi, presidente del Lions Club Arezzo Est, Giovanni Grazzini, presidente di Estraclima e Andrea Ginosa, direttore generale appunto della società. Parliamo adesso invece di lavori che mettono in sicurezza il tabacco in Valtiberina. Il rischio naturalmente che sondasse, che collasse altri pezzi di argine e quindi poi impedisse l'utilizzo della strada e dato che è l'unica strada che collega questa parte di Anghiari e significa lasciare le auto e arrivare a casa a piedi, quindi una situazione insostenibile. Il fosso della Reglia, in località Molinello, nel comune di Anghiari, da risorsa si era progressivamente trasformato in minaccia. Qui infatti una strada rischiava di restringersi progressivamente scivolando nell'alvio, rendendo irraggiungibili ad ogni precipitazione intensa campi e case, mentre le coltivazioni di tabacco finivano sott'acqua. C'è diverse coltivazioni di tabacco che per l'unico percorso della strada dovevamo intervenire sia nell'irrigazione sia nel rapporto della coltivazione. A luglio la segnalazione, la cura invece è iniziata ad ottobre. È un'opera che serve per la sicurezza del nostro territorio e anche degli abitanti del luogo. L'intervento ha riguardato oltre 200 metri di sponde per un totale di circa 50 metri di inserimento di opere in ingegneria naturalistica. Abbiamo ripetuto l'intervento in più i tratti di questa reglia per metterla in sicurezza e per regolare il deflusso delle acque e quindi in collaborazione anche con il comune abbiamo in tempi di record realizzato l'intervento. Per la stabilizzazione è stato utilizzato prevalentemente il legno di castagno. Sono stati utilizzati esclusivamente materiali naturali che provengono anche dai fiumi stessi, dalle attività di taglio, quindi sono alla fine tornate utili per la realizzazione di queste opere di ingegneria naturalistica. L'intervento è importantissimo anche come è stato fatto col palizzato e non con i sassi oppure col cemento perché l'intervento su una reglia storica, la gavina dell'acquaviola che fu fatta nel 1200-2003 in un accordo tra Sansepolcro e Angiari, signori, spostando il Tevere da qui verso Sansepolcro. Una raccolta solidale nelle farmacie in favore dei bambini del Tevenin, le farmacie comunali di Arezzo tornano ad ospitare l'annuale appuntamento che si intitola In farmacia per i bambini. L'iniziativa è ospitata dal 17 al 24 novembre nelle farmacie comunali di Campo di Marte, Trionfo, Giotto e Mecenate. Ognuno potrà donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici. E a proposito di solidarietà, in questo caso un Natale solidale perché la Croce Rossa Comitato di Arezzo è di nuovo in campo per una bellissima iniziativa già portata a termine l'anno scorso, ovvero il regalo sospeso. Nasce dall'esigenza praticamente di far passare, far trascorrere un Natale felice a tutti quei bambini che per un motivo o per un altro, vivendo in situazioni di disagio, potrebbero rischiare di trascorrere la festa più bella dell'anno in un clima di tristezza. Un'iniziativa solidale per regalare un sorriso nel giorno di Natale ai bambini in difficoltà. Ad Arezzo torna anche quest'anno l'iniziativa della Croce Rossa, un sorriso in dono. La contentezza di quando strappano la carta e trovano un gioco che era impensabile magari fino a quel momento per loro poter ricevere. Una sorta di regalo sospeso prendendo spunto dalla tradizione napoletana. I piccoli gesti cambiano le giornate dei bambini, cambiano le giornate degli adulti, cambiano le giornate di tutti. I piccoli gesti, uno sopra l'altro, contribuiscono a fare grandi cose. Dal 18 novembre sarà così possibile acquistare doni in collaborazione con Bobini Giocattoli. Noi abbiamo una lista divisa in fasce d'età maschio e femmina e quindi a scelta il genitore può regalare o l'amico può regalare in base all'età quello che vuole. I doni saranno consegnati prima della vigilia di Natale dai volontari della Croce Rossa e dal loro babbo Natale a bambini e ragazzi delle famiglie seguite per difficoltà economico-sociali. Seguiamo oltre 140 famiglie che sono pari a più di 300 persone. Di queste 300 persone, 70 hanno un'età compresa tra i 0 e i 18 anni. Si aggiungono le difficoltà perché c'è sempre il confronto con il compagno di banco che magari ha quell'oggetto che il minore non può avere e quindi diventa più difficile per i genitori affrontare situazioni particolari. Quest'anno poi la solidarietà aumenta. La Croce Rossa destinerà infatti parte dei regali raccolti all'associazione All Star Arezzo Ollus. Soprattutto i ragazzi che vivono nell'istituto a volte perdono anche per motivi anagrafici la rete familiare quindi il periodo delle vacanze natalizie è un periodo non sempre diciamo così sereno perché non fanno rientrare a casa, perché magari appunto non ricevono il regalo o la visita di babbo Natale che fa sempre piacere a qualsiasi età e quindi ecco il fatto di averci coinvolto in questa campagna speriamo di avere invece quella serenità che ci vuole nel periodo delle feste natalizie. Don Matteo Ferrari è stato eletto priore di Camaldoli e priore generale della congregazione camaldolese dell'Ordine di San Benedetto. Succede a Don Alessandro Barban che ha retto questa congregazione monastica per 12 anni. Desidero innanzitutto rivolgere un pensiero grato e affettuoso a Don Alessandro Barban dice il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca per il suo prezioso servizio vissuto in questi anni. A Don Matteo Ferrari chiamato ad assumere questo nuovo importante incarico alla guida della congregazione monastica camaldolese va il mio augurio per questo nuovo servizio e la mia preghiera e il mio incoraggiamento. Adesso invece parliamo di danza, la danza che muove. Questa è la nuova rassegna cura di sosta Palmizzi in scena che andrà in scena al Teatro Mecenate di Arezzo. Al Teatro Mecenate un'immersione coinvolgente tra i linguaggi eterogenei della danza contemporanea. Ad Arezzo le storiche rassegne invito di sosta a danza contemporanea ad autore e altre danze portiamo i ragazzi a teatro se riuniscono in la danza che muove. Sosta Palmizzi è una realtà a livello nazionale, ha sempre proposto lavori di qualità e quest'anno siamo appunto di fronte a una stagione di cinque appuntamenti rivolti non semplicemente ai più piccoli ma a un pubblico eterogeneo, proprio di età e tra l'altro appunto con dei matinee dedicati alle scuole. Un programma organico ed inclusivo che si rivolge ad un pubblico esteso con cinque spettacoli, incontri con artisti ed artiste e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti senza limiti d'età dal prossimo 26 novembre. Quest'anno abbiamo abbracciato due diverse rassegne, la nostra rassegna storica invito di sosta, la danza d'autore e portiamo i ragazzi a teatro. Abbiamo dieci spettacoli, cinque titoli diversi, siamo molto rivolti verso l'adolescenza e verso l'infanzia quest'anno con una grande e generosa attività di formazione. Pensiamo davvero che il corpo umanizzi, aiuti, sostenga, ricrei, trasformi la nostra possibilità di essere al mondo con delle qualità che sembra continuamente che siano sull'orlo della sparizione, poi sappiamo che non è così, ma sicuramente la danza che dice tutto quello che non si può dire altrimenti a parole ha dei valori estremamente umani di cui abbiamo molto bisogno. Ed infine parliamo del Pionta, del Parco del Pionta perché proprio in queste ore c'è stato il taglio del nastro delle nuove attrezzature sportive. Una grande palestra a cielo aperto al Parco del Pionta. Anche il comune di Arezzo infatti è aderito al progetto Sport di Tutti, parchi ideato dalla società dello Stato che opera per la promozione dello sport, sani stili di vita, wellness nei giardini e nei parchi nelle aree urbane, promosso assieme ad Anci. Abbiamo già concluso il progetto delle aree sportive non attrezzate proprio qua di fronte, adesso questa invece è l'area attrezzata che rimarrà a disposizione di tutti i cittadini, è un'area attrezzata per Cali Stennings ma anche per il corpo libero, è inclusiva perché è possibile anche per i diversamente abili fare attività in quest'area, ci abbiamo creduto molto in questo progetto per il suo carattere sportivo ovviamente, per il coinvolgimento dei giovani, anche quelli delle scuole che chiaramente potranno sfruttare questa vicinanza con la propria palestra e un po' per tutti, per rivivere lo sport nei parchi all'aperto gratuitamente per tutti e per ridare anche al Parco del Pionta con il suo piccolo questa dignità e questa bella frequentazione che questa struttura porterà, tra l'altro crediamo molto in questo tipo di struttura all'aperto tant'è che questa è frutto appunto di un bando di sport e salute, appunto sport nei parchi, quindi è cofinanziata da sport e salute ma ne stiamo già acquistando altre per arricchire anche i parchi della periferia e delle frazioni di strutture come queste. L'area attrezzata è completamente digitalizzata, su ogni singolo attrezzo ciascuno potrà scaricare tutorial di allenamento attraverso un semplice QR code, potendo fare attività fisica nel verde e rigenerare corpo e mente. C'è un momento di appropriazione e riappropriazione del parco, dello spazio per i ragazzi tramite l'installazione di queste strutture ad uso sportivo adiacenti alla palestra che è in anche all'ITIS ma anche ad altre associazioni sportive del territorio, credo sia un modo per valorizzare tutta questa zona che ha una forte vocazione sportiva e dare anche ai nostri studenti che potranno utilizzarli un modo per efficientare e implementare la loro attività delle scienze motorie. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri programmi.